Un altro tampone positivo al coronavirus in Puglia, dopo Torricella nel Tarantino, si tratta del quarto caso in regione, il primo nel Barese. La notizia è stata comunicata nella serata di domenica dal governatore Michele Emiliano. Il laboratorio di riferimento regionale, ha scritto Emiliano, ha rilevato un nuovo caso positivo di Covid-19 in Puglia. Si tratta di un uomo di 29 anni che lavora in Lombardia. Il test verrà domani trasmesso all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza. Dalle prime informazioni riferite dal paziente ai sanitari, l'infezione sarebbe stata contratta nella sede di lavoro in Lombardia. In Puglia il paziente ha poi avvertito i primi sintomi. L'ufficio di prevenzione dell'Ars di Bari ha avviato l'acquisizione delle notizie anamnestetiche ed epidemiologiche e l'attività di contra-tracing per provvedere all'isolamento fiduciario domiciliare di eventuali contatti stretti. Sono invece risultati negativi di altri tamponi analizzati dal laboratorio per SARS-CoV-2 in tutta la regione. I casi dispositivi saranno ora inseriti nella piattaforma web sorveglianza Covid-19 dell'Istituto Superiore di Sanità. L'attenzione continua a rimanere ai più alti livelli, in particolare, ammette il governatore, alla luce di questo nuovo caso. Il 29enne è ricorberato al Policlinico dalla serata di venerdì. Nel frattempo l'Italia, a causa del calo di flussi, ha ridotto i voli giornalieri sulle tratte per gli scali di Brindisi e Bari per Roma-Fiumicino e Milano-Linatre.